Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova avventura su GTA V Mod Vita Reale. Questo è un altro episodio importante, un episodio epico, perché ho voglia di fare un altro scherzetto a mia e al palestrato. Ora vi dico un po' cosa voglio fare, perché voglio spiegarvi bene il mio piano. Ok, io ogni volta che vengo a lavorare qui ragazzi, al negozio, mi devo fermare a quel semaforo rosso dove c'è quella jeep di colore bianco. Ok, ogni volta che mi fermo ci sono due barboni che vogliono lavarmi il vetro, vogliono vendermi fazzolettini, eccetera. Io ho fatto amicizia, quindi cosa voglio fare? Voglio dargli mille dollari in cambio di un piccolo lavoretto per me. Quindi voglio mandare loro ragazzi a casa di mia e del palestrato a derubarli. Quindi dobbiamo fare assolutamente questa cosa ragazzi, perché dobbiamo vendicarci in tutti i modi. Perfetto, senza che prendo la macchina andiamo a piedi e vediamo se ci sono i miei amici, perché vabbè, i miei amici per modo di dire, ma ogni volta che mi fermo ragazzi, questi mi rompono sempre le palle, quindi ovviamente abbiamo fatto amicizia, ecco. Allora, loro dovrebbero stare in questa stradina. Ok, ci dovrebbe essere qualcuno, vediamo un po'. Ah, ok, eccoli. Ciao amici, ecco no, non sono venuto qui per darvi soldi, ma voglio darvi soldi in cambio di un piccolo lavoretto. Ok, lì abbiamo anche una vespa rubata ragazzi, sicuramente da questi qui. Allora, vi spiego un po' cosa dovete fare. Ovviamente se il lavoro va bene, io vi do mille dollari, ma voi dovete fare una cosa per me. Dovete andare a casa della mia ex ragazza e dovete derubarla. E ovviamente se ce n'è bisogno, ovviamente li potete picchiare, non ci sono problemi, quindi mi raccomando, voglio un lavoro serio e pulito. E io vi darò i soldi. Ok ragazzi, dai, vediamo un po' questi cosa vogliono fare, se riescono, dai. Ok ragazzi, eccoci dal punto di vista di questo personaggio. Ovviamente io voglio farvi vedere tutto, quindi per questo che sto giocando con questo personaggio. Perfetto, prendiamo la vespa e andiamo subito a casa di Mia. Ok, qui c'è Franklin, come vedete, vabbè, siamo noi Franklin. E noi dobbiamo aspettare qui, quindi speriamo che questo riesce a portare a termine il lavoro. Allora, la casa di Mia dovrebbe trovarsi nei pressi di una spiaggetta, quindi da queste parti, ragazzi, dove ci sono questi pallini di colore rosso. Perfetto, vediamo un po'. Due chilometri e venticinque. Allora, visto che questo è un barbone, non c'è neanche bisogno di rispettare le regole, ragazzi, perché tanto lui se ne frega, gli fanno la multa e... Fatemi la multa, no? Tanto non ha casa, non ha niente, quindi dove gli arriva, boh. Quindi abbiamo via libera per correre. Perfetto, ragazzi, vediamo un po' come va quest'altra vendetta, perché sono curioso, sono curioso e dovrò continuare a provocarli. Ecco, voglio vedere loro di cosa sono capaci, perché abbiamo capito che io ho l'obbligo di restare lontano da Mia e dal padre a circa 700 metri, ma loro non sanno che io posso assumere persone, quindi, eh, questo non lo sanno loro, ragazzi, non lo sanno. Ok, siamo per arrivare. Perfetto, un chilometro e 28, grande barbone, grande barbone, con la sua vespa rubata, ovviamente, ragazzi. Guardate che faccia da criminale, quindi... Se non è adatto lui a fare questo tipo di colpi, eh, non so chi è adatto. Ok, 900 metri. Eh, questa cavolo di Mia, ragazzi, si è sistemata bene, eh. Mi sa che abita nelle zone ricche, nei pressi della spiaggia, eh, ma sicuramente. Va bene. Mia, mi hai rovinato la vita? Noi roviniamo la tua, non ci sono problemi. Ok, barbone, mi raccomando, comportati bene. Ok, 500 metri, ragazzi, 500 metri e siamo arrivati, perfetto. Eh, come vedete, gli ho dato un manganello, perché questo manganello stava nel negozio di Simeon. E glielo ho dato a lui, ragazzi, perché in caso di difficoltà, gli ho detto che comunque può alzare le mani, ecco, quindi... Può fare quello che vuole. Perfetto, ci sono queste due persone per strada, quindi credo, ragazzi, che questi qui... Eh, come dire... Non lo so, stanno facendo qualcosa, forse è successo un incidente. Allora, dai, parcheggiamo qui il nostro mezzo e andiamo a piedi. Prendiamo ovviamente il manganello ed entriamo nella casa di Mia, che dovrebbe essere questa qui, ragazzi, dove sta entrando questa macchina di colore bianco. E non capisco perché sta entrando, vabbè. Forse questo qui ha fatto un incidente. Ok, ragazzi, eccomia, 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 ragazzi, eccomia. Ora dobbiamo capire un attimo come fare. Lei sta lì e questo va bene, ma dobbiamo capire dove sta il palestrato. Lo dobbiamo capire, ragazzi. E ti inizio a picchiare, perfetto, ragazzi. Per il momento tutto a posto. Vediamo un attimo se possiamo passare dal garage perché dovrebbe esserci una porta. Ok, perfetto, ragazzi. Il garage è aperto. E vediamo un po' Mia cosa dice perché comunque... Siamo dei malviventi in questo momento. Ok, non dici niente? Ok, manga nell'ata in testa. L'abbiamo fatta svenire, ragazzi. Vediamo un po' se ci sono oggetti di valore che possiamo rubare. Ma innanzitutto dobbiamo un attimo vedere se c'è il palestrato in giro perché la cosa mi puzza. Dovrebbe esserci il palestrato. Vediamo un po'. Sali, sali, sali. Vediamo un po' dove sta questo maledetto palestrato. Ok, guardate come si sono sistemati. Ecco il palestrato, ragazzi. Ecco il palestrato. Vediamo un po'. Vediamo un po', maledetto palestrato. Cavolo, non mi fa passare. Ok, lo dobbiamo stordire, ragazzi. Lo dobbiamo stordire. Vediamo un attimo se si rialza. Sembra di no. Sembra di no. Ma vuole picchiarci. Vuole picchiarci. Vediamo un attimo di sbaggarci da questa zona. Prendi un cazzotto. Dagli il cazzotto. Ok, mettiamo l'arma. Ok, ho capito, ragazzi. Ho capito cosa devo fare. Spacchiamo tutti i vetri. Devono capire qui chi comanda. Vai, 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 vai. Rompi, rompi, rompi. Vai. Ed ora entra. Entra e ammazza questo stronzo. No, non ammazzano, ovviamente. Dobbiamo far svenire. Vai, vai, vai. Ok, perfetto, ragazzi. Perfetto. Si rialza, si rialza. Vai giù. Vai giù. Ok, ora sì che è svenuto. Si rialza. Oddio, ci vuole picchiare. Ci vuole picchiare. Ok, ora è svenuto. Perfetto, ora è svenuto. Allora, vediamo un po' se ci sono soldi, ragazzi. E innanzitutto, facciamo un po' di casino. Spacchiamo i vetri di questa maledetta casa. Ok, vai. Vai. Ok. Saliamo sopra e vediamo se c'è qualcosa. Qualcosa di valore che può comunque servirci. Ok. Qui sembra non esserci niente. Vediamo se ci sono altre stanze. Ok, scendi di qua. Dobbiamo rompere tutto. Oddio. Oddio. Ok, vai, 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 vai. Che qua arriva anche l'ambulanza. Allora, per il momento non vedo stanze, ragazzi. Stanze, diciamo, con soldi. Vediamo qui. Ok, questo è il bagno. Non ci interessa. Daglie. Una bella stanza con tanti soldi. Me la fate trovare. Ok, vediamo qui cosa c'è. Oh mio Dio, ragazzi. Che bella casa hanno questi, eh. Hanno una bella casa. Cazzarola. Ma non trovo la stanza con i soldi, ragazzi. Perché sicuramente questi hanno dei soldi. E io devo capire dove stanno. Ok, andiamo di nuovo sopra. E controlliamo meglio queste stanze, ragazzi. Ok, perché qui ci sono altre stanze, come vedete. Ok, vediamo qui. Qua non c'è niente. Perfetto. Io le controllo tutte perché non si sa mai, ragazzi. Ok, questo è un altro bagno. Oh, quelli stanno dormendo di brutto, ragazzi, eh. Oh, vediamo qui. Dai, soldi, soldi, soldi. Ok, non c'è niente. Perfetto, questo dovrebbe essere un altro bagno. Ottimo. Daglie. Daglie. Io so che ci sono soldi. Non sbandare. Lo so che comunque è bevuto. Ok, questo è un altro bagno. Vediamo qui, ragazzi. Vediamo qui. No, non c'è niente, ragazzi. Non trovo una stanza con i soldi. È strano. È strano perché questi comunque hanno una bella casa. Ma non hanno, diciamo, una stanza contenente dei soldi. La cosa un po' mi puzza. Quindi riscendiamo di nuovo giù. E... Ah, ma sopra si sale. Sopra si sale. Perfetto. Controlliamo di nuovo sopra. Stanza dei soldi. Stanza dei soldi. Vediamo. Ok. Ovviamente non mi li fa vedere, ragazzi, perché questi sono i soldi presi dal barbone. Ok. Abbiamo circa 60.000 dollari. Ok, possiamo anche scappare, ragazzi. Possiamo anche scappare. Abbiamo accumulato 60.000 dollari. Vediamo qui che succede. Spacchiamo un po' di cose. Dai, usciamo, 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 usciamo. Vediamo se possiamo... No, non ti fa male. Vediamo se possiamo buttarci da qui. Eh, mi sa che qua ci facciamo male. Vabbè, troviamo l'uscita. Dove sei, uscita? Non trovo l'uscita, ragazzi. Dovrebbe essere di qua. Ok, perfetto, 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 perfetto. Oh, ci sono altri soldi. Prendi, prendi, prendi. Ok. Il tempo è di trovare l'uscita, ragazzi. E andiamo via, ovviamente. Ottimo, ragazzi. Abbiamo fatto tutto, quindi possiamo ritornare da noi stessi, da Franklin. Ok, ragazzi. 60.000 dollari. E in più abbiamo steso il palestrato e Mia. Quindi sono svenuti, ovviamente. Mamma mia, grande barbone, ragazzi. Grande barbone. Supermissione. Grande, grande, grande. Ritorniamo. Vai, 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 vai. No, non mi devi fare questi incidenti. Scappa, 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 scappa. Ok, quindi questo tipo si è dimostrato affidabile, ragazzi. Si è dimostrato affidabile. Infatti. Vai, torniamo da Franklin. Oh, grandissimo, grandissimo. Vai, 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 vai. Ottimo, ragazzi. Ci siamo vendicati di nuovo. Gli abbiamo distrutto la casa. Abbiamo rubato 60.000 dollari. E in più sono svenuti. Quindi li abbiamo umiliati di brutto. Oh, 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 oh. Grande. Grande, ragazzi. Grande. Poi ovviamente mi metterò altre vendette perché non è finita qui. Perché loro non sanno che siamo stati noi. Non lo sanno, ragazzi. Quindi, diciamo, può essere stato chiunque. Non è detto che siamo stati noi. Ok. Franklin dovrebbe stare... L'abbiamo già superato. Ok, lì. Perfetto. Benissimo, ragazzi. Ho ripreso Franklin. Ho ringraziato il barbono, ovviamente. L'ho pagato. E gli ho lasciato anche il manganello, dai. Perché comunque se l'hai meritato, ragazzi. Così si può difendere. Infatti, come vedete, è sporco perché si è ferito con il vetro. Quindi, dai, se lo merita. Ma questo è Simeon? No, non è Simeon. Comunque, tutto a posto. Il vostro amico ha fatto mille dollari. Quindi stasera potete bere, potete fumare, potete drogarvi. Potete fare quello che volete. Ok, ragazzi, dai. Possiamo andare via. Abbiamo fatto una bella missione, dai. Ci siamo vendicati di nuovo di quei maledetti. E poi, prossimamente, ragazzi, mi inventerò altre cose. Ovviamente li farò finire seriamente in prigione come loro hanno fatto con me. Quindi finiranno in prigione. Va bene, ragazzi. Dai, direi che con questo è tutto. Io ritorno in ufficio. Ovviamente non si sa mai bene un cliente. Oddio, ho fatto un macello. Comunque, dai, direi che... Non si rompe. Direi che con questo è tutto. E noi possiamo sentirci ad un prossimo episodio. Vediamo qui se mi fa entrare. No, ok. Stanza riservata a Simeon. Ciao, ragazzi. Bye, bye.